Al centro l'aggressione russa a Kiev e la caccia dei crimini di guerra. Capi di Stato e di governo condividono la necessità di chiederne conto a Putin. Nel Consiglio d'Europa con 46 nazioni, le unite a Reykjavik. Per la prima volta dopo 18 anni, il presidente Zelensky partecipa ai lavori. Ma il Consiglio d'Europa, che ha espulso la Russia dall'invasione, è decisivo anche per coordinare il sostegno legale e giudiziario. Un big topic will be the accountability of Russia for the crime of aggression. It is constantly committing by waging war in Ukraine. Here I'm very glad that we will have the register of damages, which is so important for justice. And justice is one of the preconditions for a just peace. Conclusioni attese, i leader puntano a definire inoltre un sistema di compensazioni utili a consentire una ripresa economica dei territori martoriati dal conflitto.